Maglia nuova, stagione nuova, la siamo fatti in casa questa volta. Sì, quest'anno abbiamo provato questo nuovo progetto, questo team nuovo creato da me, per ora siamo in 5 ragazzi con il grosso supporto di Race Mountain che ci appoggia per i mezzi meccanici e che ci ha dato modo di partire. Abbiamo qualche altra azienda che ci aiuta in questo nuovo progetto, che è solo al primo anno, sperando di farlo crescere nel giro di poco. Questo è la Gisenu, almeno la squadra. Che dici, lascia il sole? Sì, dopo però, no adesso. Ecco, questi sono quelli che non vogliono mollarsi. Se sta bene. Sì, sì. Lo vedi? Lo vedi chi c'ha? Ci sono, ci sono! Maniche corte, lo vedi? Il cinghiale, il cinghiale. Risponde? Oggi piove. Oggi piove, loro non rispondono. Non va a chiamarlo. Non ci oppure. Non mi chiede, non si. Perché non battiamo, cazzo? Andiamo a chiamare. Non mi dirai che senti freddo? No, per niente, anche perché non piove. Quindi vedo che batti le mani, applaudi insomma. Certo, certo. Tutti concorrenti, tutti pazzi. Bravi, bravi. Evviva. Dopo tutti i saluti, andiamo a costruire di non trarci. Non bella maratone. Ciao. Siamo qui? Sì, siamo qui. Per vincere? Vediamo che stiamo in gara. Nessun pronostico. Nessun pronostico. Oggi niente. No, tutto bene? Bene. 5, 4, 3, 2, 1. Grazie a tutti. Ja! Grazie a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno.